Allora, buonasera a tutti. Achille Carosi, chinesiologo, osteopata. Sono qui insieme al mio collega Ettore Manildo, osteopata, chinesiologo. Sono anni che ci occupiamo di terravie naturali. Siamo osteopati da 15 anni e la nostra propensione a cercare di scoprire quali sono i misteri del corpo ci ha portato a fare degli studi sempre più evoluti e abbiamo capito che, quando abbiamo capito che soltanto con l'osteopatia e con tutti, avevamo già una laurea anche in scienze motorie, non riusciamo a trovare la vera causa dei disturbi che affliggono la stragrande maggioranza delle persone. Abbiamo cercato, andando avanti, di trovare altre strade. Abbiamo fatto dietologia, abbiamo fatto riflessologia plantare, abbiamo fatto medicina antica cinese, abbiamo fatto diversi percorsi paralleli a quelli che è la medicina allopatica, arrivando alla kinesiologia applicata. La kinesiologia applicata è quindi cercando di capire attraverso lo studio e l'arte del test muscolare quali sono le soluzioni o le cause dei più comuni disturbi che affliggono i nostri utenti. Li chiamiamo utenti, alcuni li potremmo chiamare anche pazienti, visto che siamo anche osteopati. Ci capita questo, ci capita che trattiamo una persona perché ha un fastidio a una spalla e ti viene dopo tre giorni che gli fa male l'altra spalla. Tratti anche l'altra spalla in maniera inspiegabile e poi che cosa succede? Succede che magari si ritrova il dolore da un'altra parte del corpo. Quindi questi dolori che saltano da articolazione in articolazione senza una logica precisa, oppure problematiche legate alla condizione della pelle, quindi dermatiti, forfore, acne e sulla pelle veramente vediamo dei grossi disturbi a volte. E' quasi inspiegabile, ci apparivano dieci anni fa inspiegabili. Problematiche legate all'alterazione dell'albo, quindi pance gonfie, aria e gas nella pancia, diarrea, stitichezza o alternanza dell'albo, problematiche legate alle esofagite, quindi riflusso gas esofagio o semplicemente acidità di stomaco, mal di testa inspiegabili sotto il profilo clinico o altri disturbi a livello genitale. Insomma, sappiamo benissimo che questi disturbi, prima che diventino malattia, intercorrono una serie di anni, all'incirca 25 anni, quindi fino a quando non c'è l'insorgenza della malattia possiamo fare un qualcosa per tornare indietro. Ecco, la ginesiologia ci aiuta da questo punto di vista e lo fa con un protocollo completamente naturale, ma poi ve ne parlerà Achille. Io parlerò della fisiognomica che è uno degli strumenti che in primis ci aiuta per darci delle indicazioni, decifrare i segnali del corpo, perché sul volto, come voi sapete, esiste una mappa che è stata elaborata tra 6-8 mila anni fa in Oriente, dove praticamente venivano analizzati tutti i segni del volto nel momento in cui una persona era deceduta e quindi è stata fatta questa mappa così come sul volto, anche sulle mani o sul piede attraverso la riflessologia plantare o sul padiglione auricolare con l'auricoloterapia. Quindi la fisiognomica ci dà già delle indicazioni come approccio iniziale di quali sono gli organi in squilibrio, quindi noi parliamo di squilibri e non di malattie, come ho detto prima, per cui tanti segni sul volto quasi sempre ci danno un'indicazione precisa dell'organo in disfunzione, quindi abbiamo il labbro inferiore che fa capo all'intestino crasso, il labbro superiore allo stomaco, gli angoli della bocca al duoteno, le gote dove c'è la famosa cuperose che fanno parte del polmone grosso intestino, gli occhi sono il fegato all'esterno, l'orecchio e il rene all'esterno, le alette del naso sono i bronchi, all'apice del naso abbiamo i segni del fegato e del pancreas e quindi diciamo che oggi tutte o quasi tutte le persone hanno dei segni sul volto che vanno dai nei, dai porri alle cisti o alle cuperose, ai brufoli e quindi il corpo, il volto ci dà delle indicazioni precise in base alla localizzazione di questi segni di quale può essere lo squilibrio. Logicamente questo è solo l'inizio di un'indagine che è molto più complessa e strutturata ed è quello poi che si farà durante lo svolgimento della scuola di kinesiologia applicata e quindi questa cosa poi ne parlerà adesso Achille con voi. Quindi diciamo la prima indagine utilizziamo la fisiognomica e l'anamnesi, cioè quello che ci dice il nostro utente, il paziente utente, in kinesiologia viene definito utente. Quindi attraverso quello che ci dice l'utente e le indagini del volto già abbiamo delle prime indicazioni. Inferiore destro, quindi andiamo a fare 6 test sul braccio, 6 test sulla gamba, abbiamo 12 test che riportiamo anche dall'altro lato e abbiamo 24 test, test di base. Andiamo a testare gran pettorale esternale, gran pettorale clavicolare, piccolo rotondo, sottoscapolare, piccolo rotondo, grandentato, quadricipite, tensore della fascia lata, adduttori, psoas, bicipite femorale. Ogni muscolo di questo corrisponde a un organo. Per cui se noi andiamo a valutare che un muscolo non ha la forza, c'è la corrispondenza muscolo meridiano, organo mi dice caro doc vai a indagare e vai a analizzare nel dettaglio quel determinato organo. Trovo per esempio un quadricipite che non è forte, ho un problema di malassorbimento, un muscolo laterale della gamba sulla coscia mi dice che il colon crasso, quindi l'intestino crasso non va bene, uno psoas mi parla dei reni, un adduttore mi parla dei genitali, un gran pettorale esternale mi parla del fegato, un gran pettorale clavicolare mi parla dello stomaco, quindi ogni muscolo è associato a un organo. Quindi se troverò un muscolo debole ho un'indicazione. Ma questa è una prima indicazione di base, non è una diagnosi, non è una valutazione ancora definitiva. Si fa un'ulteriore procedura che si chiama localizzazione terapeutica. Allora, quindi dopo la prima indagine dove abbiamo effettuato una serie di test muscolari e siccome abbiamo un collegamento muscolo-organo attraverso i meridiani, abbiamo già delle prime indicazioni. Successivamente cosa si fa? Allora, partiamo dal presupposto che la prima indagine si basa su medicina antica cinese, la seconda invece sfrutta un principio di fisica quantistica, quindi intercettazione di campi elettromagnetici, che sono poi quelli che sfrutta la TAC e la risonanza per indagare e capire situazioni che ci sono all'interno del corpo, oppure che sono capaci di influenzare in un'ora le maree attraverso le fasi lunari, oppure che fanno da tramite ai fulmini per colpirci e crearci addirittura la morte. Quindi il nostro corpo, il corpo di un essere vivente, così come le piante, gli animali, gli alberi, insomma tutti gli organi viventi sono attraversati da questi campi elettromagnetici basati su elettroni e fotoni. La seconda indagine appunto si basa sulla fisica quantistica, utilizziamo un magnete con il polo sud e quindi laddove non deve essere aiutato è un organo che è in equilibrio, quindi vuoto pieno, disequilibrio, equilibrio. Poi abbiamo oltre ai nosodi e ai provocatori, come provocatori abbiamo anche gli alimenti, possiamo testare la farina bianca, possiamo testare il lievito, il lattosio, il glutine o i cereali senza glutine, o possiamo testare il glutine fatto senza frumento, per cui tipo il farro, il camut, l'avena, la segale, o possiamo testare il frumento, quindi il frumento intendiamo semola, frumento, farina 0, doppio 0, tipo 1, tipo 2, senatore cappelli, timilla, grani antichi, possiamo testare un po' tutto, abbiamo le teste di tutti i tipi di alcol e tutti i tipi di frutta, tutti i tipi di condimenti. Il corpo, a livello quantistico, che cosa fa il corpo? Il corpo praticamente a livello vibrazionale sente se energeticamente il corpo è, respinge o attrae quel determinato, non so, quella determinata fiala che possono essere un alimento, può essere un provocatore, sostanze chimiche, metalli pesanti, eccetera, eccetera. E poi abbiamo delle fiale, diciamo, chiamiamole terapeutiche, dei fitoterapici e dei fitocomplessi che vanno a lavorare sull'organo per aiutarlo nel drenaggio oppure nel ricaricarlo nel caso che ci sia un vuoto di organo. Quindi ci sono delle fiale specifiche per il colon, quando il colon è in ritardo, quindi tende ad essere in stipsi, o qui invece quando è accelerato, quindi quando c'è un alvo accelerato, quindi quando c'è un arretto colito ulcerosa, una semplice colite, oppure un morbo di cron, ci sono delle problematiche intestinali, diciamo a capire quando c'è una candida intestinale che poi si evolve in o vaginale oppure in disturbi gastroesofagei, quindi il reflusso, e tutta una serie di sintomi correlati non di meno importanza, quindi pancia gonfia, rieggasse nella pancia, spesso le feci non sono ben formate, il cuore fa delle accelerazioni, intolleranza all'alcol con statuosi epatica, colesterolo, enzimi epatici sbilanciati, leggero mal di schiena, spalle pesanti, ci si sveglia la notte a un determinato orario, di solito quando abbiamo una problematica di colo intorno alle 4-5 di mattina, suscettibili alle infezioni, quindi mal di colo, tosta e raffreddore ma la febbre non viene mai, emigrania, cuperose, rosacea, disturbi articolari, e quindi riusciamo a capire perché tutti questi disturbi sono dei disturbi fitocomplessi, quindi a base di piante, fiori, anche funghi, abbiamo delle fiale, dei provocatori, quindi batteri, funghi, parassiti di ogni genere, abbiamo provocatori anche legati ai metalli pesanti, a sostanze chimiche, fastidi da, non so, fumo da tabacco, foci dentali, amalgame, eccetera, e abbiamo tutte le fiale test alimentari, e da questo noi riusciamo a capire come riuscire a bilanciare la salute del corpo attraverso una, chiamiamola terapia, un connubio di fitoterapici, eliminazione dei cibi a cui si è intolleranti, e una dieta alcalina che tende a basificare, quindi ad alcalinizzare e a togliere l'acido dal corpo e a bilanciare così la flora intestinale o l'organo che può essere anche un fegato da depurare, una colecisti che funziona male e è piena di calcoli di fango biliare, oppure renella o calcoli renali, quindi riusciamo attraverso una terapia bilanciare, quindi alimentazione alcalina detossificante e un protocollo terapeutico con dei fitoterapici. In questo modo riusciamo attraverso un protocollo anche molto semplice che impegna relativamente poco, sia sotto il profilo economico perché non dobbiamo comprare cose costosissime e soprattutto sotto il profilo alimentare si dà una buona educazione al soggetto che si strada verso un'alimentazione che rimuove tutti i cibi a cui è intollerante o sensibile o resistente, non parliamo di allergie perché se era allergico se ne sarebbe accorto anche lui e quindi si avvia verso il processo di guarigione. Di solito rivediamo il paziente dopo un mese e quasi sempre, nella quasi totalità dei casi, se non c'è una positività al 100% ma possiamo dire che comunque 80-90% dei soggetti hanno dei grossi benefici semplicemente seguendo un protocollo naturale. Ecco, questo è quello che noi facciamo attraverso la visita kinesiologica e abbiamo anche il piacere di condividere questa nostra professione con tanti colleghi impressiona le persone, impressiona perché acquisisce consapevolezza del proprio corpo cioè noi kinesiologi e attraverso appunto la kinesiologia applicata a questa tecnica di medicina naturale o complementare, riusciamo a far capire le persone, riusciamo a far ascoltare il proprio corpo e a far capire quali sono i loro punti deboli, cioè quali sono gli organi da tenere in considerazione o per un fatto genetico o per un fatto diciamo proprio di abuso o di cattivo stile di vita quindi la persona impara a conoscersi e in questo modo diciamo quando ha un dolore non va a tamponare il dolore come quando ci si accende la spia della lampadina nella macchina è come se noi andassimo a cambiare la lampadina anziché guardare il motore quindi la kinesiologia lavora sempre sulle cause e mai sul sintomo ma rimangono anche esterrefatti dal fatto che se un muscolo è debole poi ci si mette una boccettina su e diventa forte, questa cosa li stravolge proprio quindi a volte non ascoltano tanto noi, noi diciamo sempre non ascoltate noi ascoltate il vostro corpo e sentite come reagisce è un muscolo che è debolissimo, mettiamo una boccettina sul corpo e il muscolo cambia improvvisamente stato o tocchiamo una parte specifica del corpo attraverso la localizzazione terapeutica o un muscolo tebolo e magari tocco la tiroide o subito una reazione molto evidente quindi rimangono proprio esterrefatti da come il corpo reagisce e quindi alla fine non faranno altro che gratificati perché gli avete dato una mano, una grossa mano per la risoluzione dei loro problemi cosa che molto spesso non avviene in medicina allopatica laddove il medico consiglia delle analisi da fare e poi eventualmente vi dirige verso qualche specialista attraverso la kinesiologia riusciamo a dare un grosso aiuto alle persone alla salute e a risolvere tanti casi che non si evidenziano attraverso le indagini strumentali ed è considerata dal time una delle discipline che nei prossimi anni avrà maggior successo perché ci sono molti studi e c'è un grosso interesse verso la fisica quantistica verso i quanti e quindi è una scienza fondamentalmente la scienza del futuro che sfrutta un principio antico, millenario e allo stesso tempo una tecnica modernissima ma logicamente detta così in due parole non si può spiegare al massimo buonasera a tutti io sono Achille Carosi, kinesiologo Ettore Manildo, kinesiologo siamo anche osteopati quindi kinesiologi, osteopati ed esperti di alimentazione naturale è il settimo anno che abbiamo dato vita a questa nostra scuola di kinesiologia applicata formiamo kinesiologi da sette anni quindi anche quest'anno partiremo con il nuovo corso sono sei appuntamenti iniziamo nel mese di marzo ogni primo weekend a mesi alterni quindi primo weekend di marzo, di maggio 6-7 marzo per esattezza tutte le persone interessate li comunicheremo le date precise sono sei appuntamenti front desk quindi dove imparerete tutti i test muscolari vedete vi forniamo noi magneti, fiale test meno che le fiale in tolleranza alimentare quelle le dobbiamo acquistare a parte vi spiegheremo poi a tutti gli interessati come e dove fare al termine della scuola è anche compreso un tirocinio il tirocinio lo facciamo presso i nostri studi abbiamo diversi studi dislocati in tutta Italia entrambi laureiamo in 7-8 città da Roma Nord in su fino alla Lombardia quindi vi possiamo ospitare nei nostri ambulatori i nostri ambulatori a fare il tirocinio avete diritto a due giornate di tirocinio alla fine della scuola dove poi farete anche una tesina di laurea e avete la possibilità poi fino alla fine della scuola di ottenere un attestato di partecipazione alla scuola oppure una qualifica professionale riconosciuta dall'università popolare dal Ministero del Lavoro e dall'ASI che vi permetterà anche di aprire una posizione fiscale quindi una qualifica professionale a tutti gli effetti insomma e quindi la possibilità di iniziare una nuova professione oppure chi ha una laurea può anche avere una laurea può laurearsi in kinesiologia applicata tramite un'università americana e avere il titolo di doctor tutti i dettagli saranno spiegati nel corso delle giornate formative tutte le persone interessate possano direttamente contattare la nostra segreteria quindi la signora Giannita Bucchieri e vi lascerà i suoi recapiti sovraimpressi in questo video e noi aspettiamo tutte le persone interessate al nostro primo weekend 6-7 marzo la sede quest'anno è Firenze quindi anche tutti i dettagli saranno poi da Giannita spiegati nel dettaglio se fare un taglio Giannita a questo video salutiamo tutti gli interessati buona serata a tutti buona serata grazie a tutti